Dobbiamo dare, pensa un po', le pagelle al tuo preferito, i voti, i voti in pagella a Bettarini, ok? Facciamo così, noi ti diamo tre voti, ok Alessia? Ok, quali sono? Allora, quello più basso è scarso, quello medio è bono Sai che vuol dire scarso? Sì, so capito Brava, ecco Quello medio è bono, sai cosa vuol dire bono? Certo Eh, non avevamo dubbi E quello alto è molto bono Ok Allora, guardiamo un po' le immagini, facciamo la vivisezione a quel manzo di Bettarini Allora, vediamo la prima immagine, così capiamo che voto Lo sguardo, lo sguardo è magnetico, eh? Quanto diamo allo sguardo di Stefano, Alessia? Mamma mia, manco sto a capire la domanda perché stongo a guardare lui Grazie a tutti Grazie a tutti.